Ciao a tutti ben tornati nella mia cucina e per chi si fosse perso i video precedenti vi lascio su nella playlist e niente oggi siamo di nuovo qui con un nuovo dolce con un nuovo variante di tiramisù questa volta vogliono farlo alle fragole sì è vero già l'ho creata come ricetta cioè già l'ho caricato il video di questa ricetta l'unica cosa che voglio cambiarlo ancora un po aggiungendo praticamente all'impasto uno yogurt alla fragola invece di liquori e che proprio per dare più sapore ancora allora come al solito nel mio impasto non utilizzo le uova perché a molti danno fastidio le uova crude e come per esempio a me nel mio caso e niente quindi ora gli ingredienti comunque ve li dico io utilizzo 500 grammi di mascarpone 250 grammi di panna montata e 30 grammi di zucchero 30 40 30 barra 40 grammi di zucchero però ho visto che la panna comunque lo zuccherata ho messo meno zucchero in questa variante come stavo dicendo andremo ad aggiungere alla crema uno yogurt alla fragola ok esce già un buon profumo di fragola da questa crema devo dire quindi andiamo a preparare subito la bagna per i savoiardi e siamo pronti per cominciare so andrò ad utilizzare latte e misto per dolci oppure potete utilizzare benissimo anche la ferma e se l'unica cosa che se lo mangiano anche i bambini questo è molto molto più leggero rispetto all'alther messi che magari più è più alcolico ecco mi vado a utilizzare questo e niente possiamo iniziare il silvito allora come decorazione centrale si potrebbero mettere dei pezzetti di frangola l'unica cosa è che io per questa volta assalto perché dopo un po le fragole in mezzo si seccano diventano strane quindi non ce le metto niente non lasciamo così semplice in questo caso se volete anche dei pezzetti di cioccolato sempre le goccine di cioccolato sarebbe l'ideale io non ci metto niente voglio fare questa prova quindi passiamo subito al secondo strato ciao 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 ciao